Ero padre di tre figli, marito di una moglie meravigliosa, un uomo con un futuro brillante. Il 18 gennaio 1989. Avevo 38 anni. Quando sono morto, ero in paradiso. L'uomo nella Ford rossa è deceduto. Vorrei pregare per lui. È vivo! C'è battito! L'auto di suo marito è stata travolta da un camion della prigione di Stato, giusto? Suo marito ha lesioni molto gravi. Stiamo facendo il possibile per salvarlo. Sono così spaventato. Ti prego, aiuto. So che sarà difficile, ma donna ha bisogno di te ora. Ho combattuto quanto ho potuto. Ora sono pronto a morire. Ci sono tutte quelle persone che tengono molto a te. Non hai la minima idea di quanto ti amano. Pregheremo tutta la notte. Ci pensiamo noi adesso. Gli ho privati della gioia del prendersi cura degli altri. Mentre provavo tutta quella sofferenza, ho imparato che il paradiso è reale. Avete pregato. E io sono qui. Grazie a tutti.